Non si ferma a Piazza Alario la battaglia dei cittadini contro il progetto di riqualificazione per la realizzazione di parcheggi, un parco giochi proposto dal comune di Salerno ed anche rivisitato. Con l'avvio operativo del cantiere questa mattina alcuni operai hanno iniziato ad installare la recinzione per delimitare l'area di intervento, si è rianimata la protesta su due fronti. Da un lato il comitato che con catene in mano minaccia di legarsi agli alberi, la cui conservazione rappresenta una delle questioni principali di contrasto con l'amministrazione comunale. Piante secolari per fare posto ai parcheggi sotterranei dovrebbero essere eliminate. Siete decisi ad andare avanti, la recinzione e quindi l'avvio dei lavori non ferma la protesta del comitato che si dice pronto ad incatenarsi per fermare il progetto che riguarda Piazza Alario. Sì, non soltanto a fermare questo progetto ma a tentare di avere con l'autorità comunale un dialogo vero perché noi abbiamo posto le nostre ragioni, abbiamo anche illustrato a chi di competenza delle linee guide per la riqualificazione di quest'area. Mentre invece sappiamo che un comitato ha chiesto un generico parco giochi per bambini. Sull'argomento voglio chiarire, noi non siamo parenti di Erode, non siamo contro i bambini. L'idea nostra è quella di fare sì, di mettere sì qui dei giochi, scivoli eccetera, ma di fare in modo che quest'area sia fruibile anche da molti altri. Questo è un punto di appuntamento per ciclisti, per gente che fa footing, per gente che va a passeggio, per anziani. Tutto questo è un discorso che vorremmo avere in maniera serena con un'interlocuzione vera e non vorremmo sentirci dire come del resto è successo che noi staremmo forzando la mano. Ricordo che un consigliere comunale di cui non mi ricordo il nome ci disse in una delle riunioni che impropriamente avevamo parlato di abuso. Mi pare che invece questo sia un abuso. L'altro fronte è quello legale. Oresti Agosto ha chiesto alla procura un immediato intervento con il sequestro dell'area dove questa mattina sono anche arrivati i vigili e su richiesta dei cittadini è stata fermata la rimozione di una panchina. Noi come al solito l'estrema razio sono gli organi giudiziari. Noi abbiamo cercato di interloquire con il comune presentando con i cittadini addirittura un progetto alternativo che chiaramente non è stato preso in considerazione. Abbiamo richiesto alla soprintendenza di riesaminare l'autorizzazione favorevole perché ci rendiamo conto che la soprintendenza non ha avuto proprio contezza dello stravolgimento dell'area storica di Santa Teresa. Qual è la principale differenza tra il progetto che vuole attuare l'amministrazione comunale e quello che presentano i cittadini? Innanzitutto mantenere il verde. Questo è fondamentale perché questa città ormai il verde sta diminuendo sempre più. E poi al limite fare un parco giochi nell'angolo senza cospargere quest'area di materiale sintetico perché stravolgerebbe la natura storica dell'area di Piazza Lario.